Il nostro corso www.mesmerism.info 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 C'è un padre Qu'è lì ebbè l'oghti, ma l'affrò che ti Chasmarzin dè dien bukti Tuzi kushbakti mè bish kufti Dao dè tuzi nauqami mè su bukti Tuzi kushbakti mè bish kufti Dao dè tuzi nauqami mè su bukti Tuzi kushbakti mè su bukti Ibtidai rahmes khani tuzi Ibtidai rahmes Tuzi kushbakti mè su bukti 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 Padaram eh padaram Padaram pao gi saram Padaram pao padaram Padaram pao gi saram Padaram pao gi saram Padaram pao gi saram Tiozi kushbakti mè su bukti Tiozi kushbakti mè su bukti